Carissimi amici di Autocasini ben ritrovati, oggi mi trovo per voi da Auto Ingross e con me Enzo Ragatta, ciao Enzo! Ciao, ciao, grazie e benvenuti! Allora Enzo, apriamo la puntata con un'importante novità, ma prima ricordiamo tutte le sedi di Auto Ingross. Sì, oggi ci troviamo in Corso Rosselli a Torino, le nostre sedi sono Borgaro Torinese, Rosta, Pinerolo, Asti come Autobro, Pavia, Sarzana, Piacenza, Alessandria, a breve sarà inaugurata una sede bellissima, invitiamo tutti gli abitanti della zona di Alessandria perché sarà un'esperienza pazzesca. Ma oggi torniamo a noi, torniamo a noi perché oggi per noi è una giornata molto importante, noi ci teniamo veramente tanto perché oggi ci troviamo esattamente in Corso Rosselli 175 e vi presentiamo la nostra nuova nata di casa Ceri. Ceri è un grandissimo costruttore di automobili cinesi, forse il più grande al mondo e oggi con estremo orgoglio vi presentiamo la nuova Omoda 5. Parliamo quindi di tecnologia, innovazione, vettura green e davvero sono rimasta davvero stupefatta, parliamo di una vettura fashion. Sì, esattamente, guarda hai proprio detto la parola giusta, una macchina fashion, tant'è che lo vedrete anche di persona entrando nello showroom e d'impatto vedere questo muso, questo frontale che è pazzesco. Poi vi invito veramente tanto a concentrarvi sui dettagli, provatela, provatela perché ti dà delle sensazioni pazzesche alla guida, tant'è che si ha la sensazione di guidare una macchina realmente fatta bene, con un comfort pazzesco e soprattutto una macchina ecologica, che questo non è da poco nei giorni d'oggi. Enzo, quali sono gli allestimenti? Gli allestimenti sono due, sono comfort e premium, ma la cosa pazzesca questo mese è che Auto Ingross offre alla rata della comfort, quindi a soli 199 euro, la possibilità di acquistare la premium. Quindi davvero affrettatevi, venite a provarla, effettuate il test drive e insomma vi innamorerete. Qui da Auto Ingross un nuovo marchio, EMC. Esatto, Eurasia Motor Company è con estremo entusiasmo che oggi celebriamo l'avvento, l'entrata del gruppo Intergea, nonché Auto Ingross, nel pacchetto azionario di Eurasia Motor Company. Andiamo a vedere chi è Eurasia Motor Company e quali sono le vetture che commercializza, però vorrei brevemente fare una piccola introduzione sull'aspetto entrare nell'azionariato di una fabbrica. Bene, il gruppo Intergea Auto Ingross ha deciso di entrare nell'azionariato su questo tipo di vetture semplicemente perché per essere più attenta nei processi di produzione dei veicoli, sull'approvvigionamento dei veicoli, sull'approvvigionamento dei veicoli di alta qualità e soprattutto nel servizio post vendita, assistenza e ricambi. Qui noi siamo sempre stati numeri uno per quanto riguarda l'approvvigionamento dei ricambi a livello nazionale, quindi sicuramente questa volta faremo del nostro meglio per accontentare e stare sempre accanto ai nostri clienti. Che è quello che vi contraddistingue dai concorrenti. Certo, quello che noi cerchiamo di fare è fare sempre uguale o un pelino meglio della nostra concorrenza che direi di alto livello oggi sul mercato. E quindi Enzo, cosa ci presenti quest'oggi? Sì, oggi con estremo piacere vi presentiamo una Wave 3 a partire da 17.900 euro. Prezzo promo incredibile, non si trova sulla piazza di Torino e tutta Italia, 17.900 euro la Wave 3. Enzo, ma è bellissima, vedo che ha veramente tantissimi optional. Esatto, esatto, sì. Allora, per quanto riguarda le dotazioni di serie, qui non abbiamo la necessità di selezionare degli optional, perché è tutto, tutto di serie. A partire dalla sicurezza, quindi ESP, controllo della stabilità, mantenimento corsia e compagnia bella. Abbiamo la telecamera a 360 gradi per farvi intendere. A livello di sicurezza, quindi airbag frontali, laterali, siamo al top. Ma parliamo, oltre che le dotazioni, perché non c'è nulla da aggiungere, c'è tutto. Tutto ciò che desideri su un'automobile, qui c'è, compreso nel prezzo che vi ho detto prima, prendete nota. E non solo. La cosa bella è che abbiamo la possibilità di averla a motorizzazione benzina, motorizzazione GPL. Lo stesso motore si può avere cambio manuale o cambio automatico. Quindi c'è la macchina giusta per ognuno. Quindi la macchina giusta al prezzo giusto. A quanti euro? A soli 17.900 euro. Enzo, naturalmente MC non è solo Wave 3, ma c'è un'ampia gamma. Assolutamente, abbiamo anche le Wave 2, la Judo, che è un po' più piccina, completamente elettrica, e in più il Photon. Sul Photon avrei piacere di fare poi, nella prossima puntata, uno speciale, perché è un bellissimo pick-up. Anche lì abbiamo motore con cambio automatico, motore con cambio manuale, insomma, ce n'è per tutti i gusti. Quindi vi invito a venirci a trovare nelle nostre sedi Auto Ingros, dove abbiamo in esposizione tutte queste bellissime automobili. Mi raccomando, vi aspettiamo numerosi. Naturalmente è possibile venirle a provare. Assolutamente, il test drive è fondamentale.